Il giorno e la storia Oggi è il 16 ottobre 1943 Rastrellamento e razzia nazista al ghetto di Roma 1978 Carol Boitila sale al soglio pontificio con il nome di Giovanni Paolo II 1998 Londra Augusto Pinochet arrestato in ospedale Comenta il fatto del giorno Umberto Brindani direttore di Oggi Oggi vi parlerò di come si può trasformare un disastro in un trionfo